Mi vergogno, ho i brufoli. Niente paura, oggi c'è Collaril. A base di ormoni elimina i punti neri, i brufoli, la barba e i peli sulle gambe. Allora, Marco, a scuola ti prendono ancora in giro? No, no, non mi chiamano più Brufolo Bill. Da quando uso Collaril mi chiamano Marisa. Era questo. Io vi ricordo l'espressione tua che finiva con questa espressione. Senti una cosa, tu sei partita col trio che eri signorina. Poi per un po' di tempo, adesso non voglio indagare nella tua vita privata, per carità lungi da me, per un po' di tempo sei diventata signora, adesso sei ritornata signorina. Per i milioni di pretendenti che ci stanno guardando, perché la signora Marchesini è sempre oggetto di desiderio per i nostri amici da casa, secondo te che, no, non aiutarli, che caratteristiche deve avere un uomo adesso che ti sta guardando, un professionista o anche un lavoratore, eccetera, per avere delle possibilità con Anna Marchesini? Guarda, mica lo so. No, eh? No, non lo so. Proprio non... Forse, diciamo, quello che non deve avere. Il cellulare? Il cellulare. Le carte di credito? Sì, un po' raggio. La panza? La panza? No, perché un po' raggio. Una, ma una stanza. E poi... Non lo so, deve saper sognare. Deve saper sognare. Però, anche qui, volevo chiudere la tua intervista facendo una cosa. Tu hai avuto una storia d'amore, una storia... Dieci anni fa, tu hai illuso una persona, proprio in una trasmissione che dicevo, io sono stato testimone di questa storia d'amore. E ora, ti vorrei far vedere proprio questo magico momento del vostro primo incontro. Lui era ancora giovane. Vogliamo vedere questo momento magico. Mamma mia, oh! Chi sa, ma fuma i piedi da quando ho ballato... Ma che sai fai con sto piede sul tavolino? Sono due ore che ti cerco. Sì, Giammiero. Cos'è stata? Sono stata a ballare, non a arrabbiare. E con chi? Con quel collega tuo che c'ha la pigna qui. Con pigna? Sì, come io vado allo stadio, lavoro, ho fame, torno a casa e tu sei andato a ballare con pigna. Ma non ho fatto niente, Giammiero. Scusa, Giammiero. Scusa, Giammiero. Volevo avvertirti che io non ho fatto veramente niente di male. Tu mi conosci, io sono un galantuomo, lo sai. Che pigna? Vabbè, vabbè. Tu, Paolo, ne sapevi qualcosa. Io... Bene. E io... A questo punto... No, non cambia il discorso. Sapevi qualcosa? No. Bene. E concludiamo a questo punto... Ma non è il nostro collegamento. Con... Un risultato delle quote e... Totocano. I risultati? Dicemi un po'. I risultati? Sì. Ma i risultati, lo sai, io li do. Contento, io ho detto, ma l'altro è l'ottantesimo. Mi ha portato, ma non è il contente, non è la parola, ma non è il contente. Non è la parola, ma non è il contente. Non è la parola. Non è la parola. Ebbene... Ebbene, io voglio che questa storia d'amore finisca bene, perché il mitico, tuo mitico Galeazzi, dopo dieci anni, è qui! Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Là, ecco, basta. È l'emozione. Avevi più capelli, eh? Avevo più capelli. Leggevi il gobbo già allora. Sì. Però avevi più capelli. Sbagliavo unica puro. Sì, ho messo ogni tanto... Allora... Lei mi faceva così, tocca a te. Sì. Come lo faccio io spesso adesso, tocca a te. No, si sono invertiti. Allora, adesso poi andrete a consumare il camerino. Volevo concludere dicendo una cosa importante. Anna è qui in televisione, ma è anche sempre stata grande attrice di teatro, tant'è vero che adesso ci lasci per andare... Al Teatro Olimpico, dove vi aspetto tutti, anzi, se volete intanto venire... No, dopo vi tolgo il pubblico a voi. Scusa, no, sì, sì, al Teatro Olimpico, fino al 31 gennaio, col mio spettacolo. Bene, ringraziamo Anna Marchesini, ringraziamo il suo antico amore. E noi ci vediamo dopo la pubblicità. Ciao! Ciao!